La legge elettorale che abbiamo è stata Giorgia Meloni a scegliersi questi parlamentari, quindi neanche che si possa dire di poter dare la colpa a chissà chi, no? Chiedi a me Lili, brevemente, torno sulla parola infame visto che ci siamo fissati su questo, ok. Vedevo una trasmissione sulla 7 oggi pomeriggio e c'era Foti, Tommaso Foti, fratelli d'Italia, quindi prendetelo come un esponente del partito di Meloni che diceva che nella chat ci sarebbero, era una chat parlamentari della precedente legislatura, 34 deputati e 32 collaboratori, tutti della precedente legislatura. Ma perché Meloni scrive lì? Non si è mica capita questa cosa. No, no, questo non lo so perché ci sia una vecchia chat dove ci sono ancora quelli anche, fra virgolette, trombati della precedente legislatura. E la fatta dei compleanni, degli auguri. Ecco, che io ecco, fra l'altro eviterei di parlare, insomma, di parlare a questo tema di opportunità, di dialogare su queste chat, ci sarà una chat ufficiale, però non lo so perché non essendo una notista politica, né seguendo né una chigista come Monica, non sono a conoscenza di queste chat. Detto questo però, e chiudo, c'è un tema di fondo secondo me, poi se ci vogliamo fissare sulle parole, sulle chat, la talpa o non talpa, si può andare avanti per tutta la sera. C'è un tema di fondo secondo me, che c'è un problema che Meloni deve affrontare, perché le nomine, la nomina, ma ce ne saranno altre tre a dicembre, entro dicembre, nella composizione della Corte Costituzionale, è fondamentale. Perché attraverso la consulta, e qua mi sorge il sospetto a pensare male, che qualsiasi nome possa essere tirato fuori anche da Meloni e confrontarsi su questo con l'opposizione non andrà bene, perché la consulta serve all'opposizione per bloccare due riforme, premierato e autonomia differenziata. Diciamo, scusa, voglio solo ricordare che la Corte Costituzionale è la Corte Costituzionale, non è un organo, il massimo organo istituzionale a disposizione della maggioranza dell'opposizione, perché se no facciamo come Trump durante il suo mandato di quattro anni. Scusate un attimo, voglio dare la parola a Monica Guersoni, anche per ricordare però che non è che noi ci fissiamo sulla parola infami o sulla talpa, perché anche qui ancora una volta hanno fatto tutto da soli, perché noi giornalisti che non capiamo niente, non sappiamo niente, abbiamo pensato che se la Presidente del Consiglio risponde ai parlamentari in questa chat vuol dire che è importante e vuol dire che questi esponenti sono importanti e se no non avrebbe risposto. Ma non solo, ma voleva anche che queste sue considerazioni uscissero, perché ripartiamo dall'inizio, c'è una sproporzione gigantesca...